Cesare Coppe davanti alla futura area dove sorgerà il Palazzetto di Morigia. Cosa non funziona secondo voi? Sì, adesso veniamo alla seconda parte del titolo del nostro tour che è Gallarate al Verde, perché tutta quest'opera di cui abbiamo parlato del Palazzetto dello Sport di Morigia verrà finanziato a debito. Vuol dire che verranno accesi mutui per almeno 6 milioni di euro a carico dei cittadini gallaratesi o meglio dei cittadini futuri, perché saranno in tutta probabilità mutui trentennali che graveranno sulle spalle dei nostri figli e non si sa quale beneficio produrranno alla popolazione. Questo perché non è stato fatto uno studio dei costi benefici, non si sa a chi servirà in sostanza il Palazzetto, non si sa chi lo gestirà, chi ne pagherà le utenze. Questo soltanto perché realizziamo un'opera per il solo gusto di farla, senza che ci venga dimostrato, come chiediamo da anni, come l'opera sarà utilizzata, chi la utilizzerà e che benefici porterà. Evidenziamo tra l'altro che siamo proprio di fianco alla piscina di Morigia, una struttura comunale per la quale non sono ancora previsti i progetti. È una struttura comunale che si sta deteriorando, andando a perdere parte del patrimonio comunale. Ci è stato detto in campagna elettorale dal sindaco che era già previsto un progetto ed era imminente la partenza della riqualificazione dell'impianto sportivo, non è stato fatto nulla. Costruendo un palazzetto al suo fianco andiamo in qualche modo a limitare anche le possibilità di riqualificazione e di espansione di quell'impianto sportivo. Aggiungo che non è stato fatto alcuno studio sulla viabilità e dunque non sappiamo come i mille spettatori e tutto lo staff che girerà attorno al palazzetto impatteranno su Via Gramsci, che è l'unica via di accesso a questa struttura sportiva. Dunque una struttura sportiva che è insostenibile così come viene presentata e dunque chiediamo non soltanto che l'opera sia pensata, ma sia sostenibile per le tasche dei cittadini di oggi e di quelli futuri.